GF VIP 7, Sonia Bruganelli svela cosa ne pensa davvero di Antonella Edoardo Donnamaria, poi lancia una stoccata a Giaele Dedona. Ospite dell'ultima puntata di Casa Chi, il format Instagram del settimanale Chi. Condotto da Soffico Degoni, è stata Sonia Bruganelli, attuale opinionista del GF VIP 7 che ha detto la sua su alcuni dei concorrenti ancora in gara e ha parlato della possibilità di rivederla sulla poltrona di opinionista nella prossima edizione del reality. Per prima cosa Sonia ha ribadito che Antonella è tra i suoi preferiti e ha anche parlato del rapporto di quest'ultima con Edoardo. Per quanto riguarda la prossima edizione del GF VIP, la Bruganelli ha anche commentato quanto accaduto tra Nikita e Giaele sul fatto che quest'ultima isoli la pelizzone e la casa. Infine, l'opinionista ha parlato di Edoardo Tavassi e della sua personalità complessa. Che da un lato lo ha fatto apparire come fragile e dall'altro come predominante sul del gruppo. Grazie. 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 Grazie.